Uno dei personaggi più attesi che io abbia mai visto nella storia dei cinecomics, chi segue questo mondo un pochino sa benissimo quanto The Rock, ovvero Dwayne Johnson, abbia pompato questo personaggio e soprattutto il film che è uscito recentemente negli scorsi anni, forse perché il più elettrizzato, il più in hype in assoluto al mondo per questo film era proprio lui. Comunque sì ragazzi Black Adam è qui, è uscito da poco quindi ora possiamo parlare tranquillamente di questo personaggio anche al grande pubblico, infatti in questo video parliamo dei 5 eroi più forti che sono stati sconfitti da Black Adam e stiamo parlando più che altro ovviamente del mondo fumettistico, ok? Quindi ragazzi io non ho neanche visto il film, vi dico la verità, se vi consiglio di andare a guardarlo vi dico assolutamente di sì perché comunque stiamo parlando di un personaggio che non era molto noto al grande pubblico, secondo me meritava dello spazio, ci sono anche molti eroi che effettivamente meritano dello spazio e non sono mai stati visti al cinema o anche per esempio in serie tv eccetera eccetera eccetera. Comunque ragazzi direi subito di iniziare con il primo eroe sconfitto da Black Adam e stiamo parlando ovviamente del più ovvio di tutti ovvero Shazam. Questo personaggio possiamo anche definirlo la nemesi principale di Black Adam, l'uno dell'altro diciamo, facciamo così, nato come Captain Marvel tantissimi anni fa se non erro addirittura negli anni 40, a un certo punto ha dovuto cambiare nome in Shazam perché la Marvel ha registrato un altro supereroe con lo stesso nome in un periodo in cui questo personaggio non era più pubblicato, comunque noi ed è in questo momento lo conosciamo principalmente come Shazam. Black Adam è riuscito a sconfiggere la sua nemesi? In realtà sì, ma non tanto perché sia più forte di Shazam, i due sono quasi alla pari, probabilmente Black Adam in realtà ha più caratteristiche che lo permettono di essere un po' più forte o comunque il fatto di essere una cosa così antica secondo me anche solo per nome lo fa sembrare più forte rispetto a Shazam, però effettivamente Black Adam ha sconfitto questo personaggio anche perché ci sono stati tantissimi, ma veramente tantissimi scontri tra i due. Passiamo a quello successivo, ovvero Atom Smasher. Questo è uno di quei personaggi che citavo prima, ovvero personaggi che effettivamente un po' si conoscono, ma che non hanno avuto un grandissimo spazio al grande pubblico, anche se in realtà nel caso di Atom Smasher l'abbiamo già visto nella serie tv The Flash. Poi non vi dico cosa ne penso di quella serie, però comunque effettivamente almeno in televisione questo personaggio l'abbiamo già visto. Personaggio che ha la caratteristica di poter ingrandire a dismisura sia la sua forza che la sua stazza. Uno dei personaggi principali della Justice Society, un gruppo di eroi effettivamente molto importante quando si parla di Black Adam e anche quando si parla del film di Black Adam, che ha combattuto tantissime volte contro questo antieroe. Anche nel film all'inizio del teaser vediamo che effettivamente i due combattono, però come praticamente con tutti i membri della Justice Society il loro rapporto ha un po' un dualismo, perché certo inizialmente combattono, combattono spesso e volentieri in realtà, però poi i due si alleano innumerevoli volte. Addirittura Black Adam è riuscito a dire che Atom Smasher per lui è il fratello che non ha mai avuto. Credo che sia un onore veramente riservato a pochissimi, forse solo ed esclusivamente a quest'ora e qui. Parliamo ora di Hawkman, un altro personaggio che è abbastanza famoso, almeno per chi si è visto tutte le varie edizioni animate di prodotti DC, comunque prodotti a cui io sono molto molto legato. Questo è un personaggio molto particolare, perché in realtà nel corso della storia, nel corso effettivamente della sua storia editoriale, cambia moltissime versioni. La primissima versione, infatti, quindi quella diciamo della Golden Age, Carton Hall, ovvero Hawkman, era un archeologo, ma anche la reincarnazione di un principe dell'antico Egitto. Durante questa versione qui, lui insieme a Hawk Girl, che è un personaggio che è sempre affiancato a quest'altro personaggio qui, usano alcuni degli strumenti esposti nel museo per andare a combattere il crimine. Quella invece più recente, la versione, diciamo, Silver Age, che è quella versione che diciamo viene dopo la Seconda Guerra Mondiale, invece lo vede come membro della polizia di un pianeta chiamato Tanagar. Lui e Hawk Girl, infatti, devono trasferirsi sulla Terra, dopo questo pianeta, per aiutare i membri della Justice League a occuparsi dei supercriminali. È un membro, anche lui, della Justice Society e della Justice League, e come membro della Justice Society ha avuto per forza a che fare con Black Adam. Questo è anche uno scontro abbastanza facile per Black Adam, che veramente vedrete più avanti all'interno del video a sconfitto eroi molto 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 più forti. Parlando di eroi molto molto più forti, dobbiamo parlare per forza, ragazzi, di Dr. Fate, oppure Dr. Fato, per chi lo conosce in italiano. Dr. Fate ha avuto molte rincarnazioni, come praticamente tutti gli eroi della DC, però sicuramente l'uomo sotto la masca di Dr. Fate più famoso in assoluto è Kent Nelson, figlio di un archeologo che si chiama Sven Nelson, che morì dopo aver scoperto la tomba di un essere mistico che si chiama Nabu. Questo Nabu poi prenderà l'orfano con sé e gli insegnerà tutte le varie arti magiche. Non gli insegnò soltanto le arti magiche, ma gli conferì anche un magico elmo e un amuleto, che sono due delle caratteristiche principali di questo personaggio. Spiegare la importanza di questo personaggio è uno che non ha mai letto un fumetto della DC, è un po' difficile, però per fare un parallelismo possiamo dire che Dr. Fate sta alla DC come Dr. Strange sta alla Marvel, come potete anche immaginare, perché anche i nomi sono abbastanza simili e anche le caratteristiche di fatti due sono incentrati sulla magia. Comunque Dr. Fate è veramente un personaggio molto importante e molto forte per la DC, però venne sconfitto addirittura da Black Adam in un solo pugno. L'unica cosa che non riuscì a fare Black Adam con questo personaggio è togliergli il suo casco, che effettivamente è riuscito a tenersi stretto. Abbiamo ancora tempo però per un altro personaggio che effettivamente è stato sconfitto da Black Adam, e questo probabilmente alcuni di voi non se l'aspettano, anche se è stato un po' spoilerato dalla copertina, perché Black Adam in una delle sue storie è riuscito addirittura a sconfiggere Superman. Per quanto riguarda Superman il discorso è un po' simile a quello di Shazam. Certo, Black Adam è riuscito a sconfiggere questo personaggio di lui, probabilmente il personaggio più iconico della DC insieme a Batman è uno dei più forti in assoluto. Però è anche vero che i due si sono scontrati tantissime volte, addirittura esiste un film animato che effettivamente è incentrato su Superman contro Black Adam, che vi consiglio, che è anche molto bello, però c'è da dire una cosa molto importante. Per chi non lo sapesse, Superman ha una debolezza generale, che non è solo quella della kriptonite, ma anche quella riguardante la magia. Difatti in generale, quando Superman si trova davanti un nemico che ha la magia come arma, diciamo così, si trova sempre in difficoltà. Nel caso di Black Adam, ovviamente si trova in difficoltà, perché Black Adam non usa solo la magia, ma anche la forza. Quindi diciamo un nemico veramente veramente tosto per Superman. Personaggio che, ripeto, è come Shazam, è stato sconfitto, ma ha sconfitto a sua volta. L'anti-roi in una delle tantissime avventure che l'hanno visti disegnati insieme. Prima di concludere questo video, come al solito ragazzi, io vi consiglio di andare su Redok. Trovate il link in descrizione e nel primo commento. Avete il 10% di sconto su ogni vostro acquisto, se inserite il codice sconto YouTube. E vi ricordo che abbiamo questi due prodotti qui, che sono due prodotti, due Funko Pop ispirati proprio a Black Adam, o Black Haba, Adam e Sabak, che è il nemico principale del film. Ragazzi, sono due dei Funko Pop più belli che abbiamo nel catalogo, secondo me, quindi io ve li consiglio vivamente. Dato questo ragazzi, grazie mille per aver visto questo video, questo è Redok. Mi raccomando, iscrivetevi e mi mettete mi piace. Se non volete perdere i vari contenuti su fumetti, manga, anime e tutta la cultura nerd in generale. Noi ci vediamo prossimamente, ciao a tutti.